Sarà il tema della speranza, affare da filo conduttore per il corteo storico di San Nicola 2023 a Bari, quella delle tre sorelle di poter contrarre matrimonio senza cedere alla volontà del padre e quella del popolo di Mira, stremato da una carestia che il Vescovo Nicola convincesse il capitano della nave a cedere un po' di frumento e anche quella dei 62 marinai alle prese con le riliquie. Nell'escorsiore, la commissione giudicatrice della gara per l'ideazione, la progettazione e la realizzazione dell'evento ha formalizzato il disco verde per l'associazione temporale d'impresa formata da Ideazione e Cube Comunicazione, la direzione artistica di Nicola Valenzano, la collaborazione di Res Extensa, guidata da Elisa Baruchieri e che si occuperà dei numeri di danza aerea dedicati alla vita del santo in Piazza Libertà, sette quadriscenici e tre alte torri medievali impiegate lungo il percorso che potrà contare anche sulla presenza della tradizionale caravella Treppale, raffiguranti altrettanti miracoli, sfileranno insieme ai figuranti e Valenzano, per il ritorno sulla tolda di comando di uno dei momenti più sentiti dalla comunità non soltanto pugliese, ha voluto al proprio fianco attori come Tiziana Schiavalli e Dante Marmone, Toto Onnis, Nico Salatino e Anna Maria Vivacqua, soltanto a citarne alcuni, mentre le coreografie saranno a cura di Alessandra Lombardo. Confermata anche la volontà di coinvolgere i cinque municipi, esattamente come richiesto dal bando, con timpanisti e sbandieratori a precedere il tradizionale corteo nel prologo.